La finanza e i capitali islamici sono pronti a portare fuori dalla crisi l'Europa e in particolare l'Italia, purché i paesi seguano nella produzione, nella logistica e nella commercializzazione gli standard halal, in arabo conforme ai precetti della sharia, ovvero la legge che stabilisce cosa è lecito o proibito per un musulmano. E questo è il messaggio dell'ultima giornata del World Halal Food Council che si è tenuto a Roma settimana scorsa. L'evento, organizzato dalla sezione italiana di Halal International Authority, che è a sede a Bari ed è l'unico organismo riconosciuto per la certificazione di qualità dei prodotti secondo gli standard islamici, ha radunato per la prima volta in Italia i rappresentanti dei 57 stati islamici dell'Organization for Islamic Cooperation. Siamo disponibili, ha dichiarato lo sceico saudita Fa'a Alared, membro del Comitato per la Islamizzazione delle Banche, ad investire in Italia, che vogliamo diventi l'Hub del mercato halal nel Mediterraneo. Un mercato da 3.000 miliardi l'anno, in crescita del 15% ogni anno che raggiunge 2 miliardi di musulmani. Il passo più importante è stato già mosso nel corso del convegno romano. Il presidente di Halal International Authority, Sharif Lorenzini, ha annunciato infatti la firma di un protocollo di intesa con l'Agenzia Governativa della Malesia per lo sviluppo del mercato halal per la nascita di un Hub Halal che parta proprio dall'Italia. In questa maniera la Malesia, cioè il più grande mercato halal del mondo, metterà la sua esperienza a disposizione dell'Italia che diventerà il primo Halal Hub in Europa, servendo i paesi del Mediterraneo, il sud-est asiatico, i Balcani e ovviamente i paesi europei. Tutto questo pone le basi su cui la finanza islamica, che non prevede l'applicazione di tassi di interesse, poiché sarebbe peccato capitale, potrà investire attraverso la compartecipazione di capitali e l'acquisto di azioni societarie, intervenendo direttamente anche nelle imprese che stanno fallendo. I settori di interesse sono molteplici, spaziano dal cibo all'abbigliamento, dal turismo ai medicinali, dalla cosmesi alla cura del corpo. Tra le 270 aziende italiane che si sono già certificate halal, molte sono quelle che hanno visto crescere la propria produzione, al punto da non poter più far fronte agli ordini che provengono dal sud-est asiatico, Malesia, Indonesia, Arabia Saudita. A queste imprese verrebbero incontro gli sceicchi, disposti ad aprire nuove sedi e ad assumere personale. Abbiamo ospite in studio Sheriff Lorenzini, presidente di Halal International Authority. Dunque, Ingegner Lorenzini, mi pare di capire che questa convention abbia prodotto dei risultati molto positivi, che da ora si possono gettare così le basi per nuovi e proficui accordi nell'ambito del mercato halal globale. Buongiorno a tutti, grazie al direttore. In effetti è stata un grande successo la prima convention internazionale sul halal in Italia. La capitale romana ha visto per la prima volta nella sua storia la presenza di più di 40 nazioni del mondo, il quartiere generale degli stati islamici, che si sono riuniti per discutere del halal in Italia, uno stato non musulmano, ma che vuole essere leader del mercato. La presenza e la partecipazione molto attiva del sindaco di Roma ha segnato un'importante svolta per l'Italia. Ha dato un importante segnale di voler essere un operatore a tutti gli effetti del mercato, se non addirittura un leader del mercato. Ecco, Lorenzini, la interrompo perché il tempo è tiranno. Le dichiarazioni degli sceicchi sono state, diciamo, come dire, confortanti per il governo e per la nostra economia, perché sarebbero disposti ad investire in Italia e quindi a portare denaro, ma ad una condizione ben precisa. Lei crede che possa realizzarsi questa condizione? Dunque, siamo in contatto con molte realtà di investimento del mondo islamico, che passano dal Nord Africa, il Golfo Arabico, fino ad arrivare al sud-est asiatico, tutti interessati a partecipare attivamente nell'investimento per la realizzazione del primo Halal Hub d'Europa, cioè il Halal Italy Hub. Sono disposti, chiaramente, a rispettare le normative nazionali ed europee, ma si aspettano altrettanto rispetto delle istituzioni italiane, della realtà produttiva italiana, rispetto alla Halal. Bene, allora, noi ringraziamo il dottor, l'ingegner Lorenzini per averci dato queste notizie, soprattutto l'idea che comunque gli sceicchi possano così investire in Italia. Grazie per la sua partecipazione. Andiamo avanti, cambiamo decisamente argomento.